Allora Presidente, tutto bene, tanti bambini, insomma il ricambio è assicurato? Beh sì, abbiamo sempre anche la parte giovanile che se non la coltivi dopo non rischia di non averci più poi i ragazzi del futuro, quindi l'occhio ai giovanissimi ci va sempre dedicato e buttato. Moreno Rosati è il Vice Presidente dell'Acconi, quindi penso che vedere tanti bambini, tanta gioventù, fa sempre piacere a chi poi ha le responsabilità del movimento sportivo anche se regionale. Ma non c'è dubbio, l'Eurosport Club da questo punto di vista è una garanzia, peraltro oggi si è presentata in questa bellissima sala consigliare del Comune di Terni con tutto il suo staff tecnico, oltre che con tutti i ragazzi, e gli sforzi che si stanno producendo sono, secondo il mio modesto punto di vista, degli sforzi importanti, tesi sempre di più a garantire un alto livello anche di insegnamento ai ragazzi. Uno struttura, lo staff tecnico che si è dotato anche di figure innovative, con il preparatore atletico e anche un consulente della Federazione Nazionale, a dimostrazione del fatto che si punta veramente a una crescita completa di tutto il settore, non solo della parte dei più grandi, della parte agonistica, come ricordavi giustamente te, e degli atleti ormai si sono anche affermati a livello nazionale, ma si guarda con molta attenzione anche ai più piccoli, sia nel settore della corsa che nel settore dell'artistico, perché poi contare all'incirca di 50 giovani in una società sportiva che fa dell'attività giovanile l'attività primaria, credo che sia anche un ottimo risultato dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista del Comune dell'Umbria. Presidente, un po' di numeri di questo Eurosport Club? Allora, gli iscritti quest'anno sono circa 120, diciamo le allele della squadra agonistica sono 45 le due squadre agonistiche, il resto è fatto dalla scuola che sono bambini che vengono a pattinare da, o stanno proprio all'inizio oppure pattino da circa un anno. L'attività maggiore noi la svolgiamo a Irma Bandiera e al quartiere Matteotti, perché al quartiere Matteotti ci abbiamo a disposizione una piccola palestra che ci permetta di fare tutto quello che riguarda la parte scolastica, la parte scuola di pattinaggio. Grazie.